No, 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 no! No! No, no, no! No, 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 no! Lasciatela bruciare! Benton, mi ricevi! Non ti vedo! Prendimi la mano! Forza, prendimi la mano! Mia nonna aveva ragione. L'uomo nero era reale. È finita. Non potrà più fare male a nessuno. Non te l'hanno detto. Detto cosa? C'è qualcuno? Michael Myers è vivo. Ti prego, no! Ferma, ti hanno infilato un coltello in pancia. Tu e Allison non dovreste continuare a scappare. Il male muore stanotte. Stanotte. Togliela sicura! Non me ne starò qui a guardare mentre muore un altro innocente. Guardate dove sono le sue vittime. È una freccia che indica la casa d'infanzia di Michael. Che facciamo? Combattiamo! Diamogli la caccia. Michael Myers è fatto di carne e sangue. Ma un uomo non sarebbe sopravvissuto a quell'incendio. Più uccide, più si trasforma. Scappate! Andate via! È male allo stato puro. PALLO! PALLO! Vuoi la tua maschera? Vieni a prenderla! Sto venendo a prenderti, Michael. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!